Secondo me sono due ottime squadre, l'Avellino sicuramente con un allenatore importante, con un allenatore d'esperienza, il Perugia con un allenatore giovane, con idee nuove e secondo me verrà fuori una buona partita. Il Perugia di solito per l'Avellino è un tabù, pensa che questa volta questo tabù possa essere sfatato? Il campionato dice che adesso sicuramente l'Avellino viene da una serie di risultati importanti, il Perugia ha anche il Perugia e quindi sicuramente verrà fuori una bella partita e poi vinca il migliore, è sempre il campo quello che decide. Che ricorda dell'esperienza di Avellino? Avellino è stata una bella esperienza, abbiamo vinto un campionato anche se ci si aspettava magari il primo posto, però vincemmo il campionato lo stesso con i play-off. Ricordo una bella piazza, una tifoseria con tanta passione e penso che quella è rimasta perché basta vedere le immagini soprattutto quando partono i tifosi in trasferta. sono sempre tanti, quindi la passione è una bella cosa per la tifoseria. Io mi sono trovato bene, ho dato il mio piccolo contributo come tutti quanti i miei compagni di quell'anno e si è riusciti a vincere un campionato e è bene così. Un bel ricordo ecco. L'Avellino di quest'anno dove può arrivare? Non lo so sinceramente perché secondo me il campionato di B è bello tosto, è bello tosto e certo con l'avvento di Novellino secondo me è cambiato un po', ha cambiato proprio parecchio la situazione, mi sembra che viene da tanti risultati utili e quindi il calcio è talmente a volte è strano, è bello per quello perché può succedere di tutto. Non lo so, secondo me il partegno mette sempre un po' di timore alle squadre avversarie, un po' per lo stadio in sé per sé, un po' per la tifoseria, un po' per tante cose. Ripeto, vinca il migliore, non saprei dirti se una o l'altra magari per la gente che va allo stadio che esce fuori una bella partita così si divertono tutti. Grazie. 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 Grazie.